Il centro anziani comunale di Borgovelino La lezione è stata tenuta da un anziano leader sotto la supervisione dello psicologo Francesco Bernacchia con il supporto di apposite slide e brusciore informative La lezione ha introdotto il tema delle dipendenze specificando che si parla di patologia in tutti i casi in cui il soggetto non riesce a fare a meno di qualcosa La tipologia più diffusa di dipendenza è quella da tabacco e le conseguenze non sono da poco ogni anno in Italia ne muoiono circa 80.000 persone Il messaggio portato da protagonista di te stesso è quello che si può e si deve provare a smettere di fumare a qualunque età non è mai troppo tardi per riscontrarne sulla propria pelle i benefici I presenti hanno raccontato le proprie esperienze personali e fatto domande sulla sigaretta elettronica La seconda dipendenza affrontata è stata quella da alcol Si comincia a bere in età sempre più precoce e non è facile smettere soprattutto quando subentrano stati di depressione e malinconia Agli anziani presenti è stato mostrato come la pubblicità tenti di agganciare all'amo le persone più deboli ma se non se ne fa un uso moderato le conseguenze possono essere drammatiche soprattutto se ci si mette alla guida in stato di ebrezza Nel corso dell'incontro è emerso che un altro tipo di dipendenza molto diffusa tra gli over 65 è quella da farmaci Sono stati sfatati molti falsi miti come ad esempio il fatto che sopra il 38 di febbre bisogna necessariamente assumere un antibiotico e tutti sono stati sollecitati a rivolgersi sempre al proprio medico di base Se il gioco è un aspetto fondamentale delle nostre vite bisogna stare attenti a non diventare dipendenti dalle scommesse e gli anziani presenti sono stati messi in guardia anche dal gioco d'azzardo che fa perdere ingenti somme di denaro Questo diventa ancora più pericoloso su internet perché ci si rende meno conto del tempo che passa e delle cifre che si stanno perdendo La lezione è risultata interessante e partecipata in maniera attiva